La vicenda dell'ex ospedale psichiatrico di Pesaro, il San Benedetto, è una vicenda annosa. Questo enorme immobile, sono quasi 15 mila metri al centro della città di Pesaro, è ormai in degrado, inutilizzato da tempo. È di proprietà dell'Asur, quindi della Regione Marche. Più volte è stato un tentativo di vendita sempre andato deserto. Oggi come oggi, sia la Regione Marche che il Comune di Pesaro, indipendentemente tra loro, sono in difficoltà all'utilizzo di questo immobile. Costa troppo, si pensa tra i 30 e i 40 milioni di euro per un restauro e un riutilizzo. Allora ho incontrato alcuni giorni fa il Sindaco di Pesaro per questo e insieme abbiamo pensato di poter portare avanti unitariamente un'iniziativa. Su questo mi sono preso l'incarico di redigere una proposta e insieme agli uffici urbanistici della Regione Marche abbiamo inviato una lettera proprio in questa giornata al Sindaco di Pesaro proponendogli, secondo me, una soluzione interessante, che è una soluzione che divide l'area in quattro parti diverse, di cui una parte, quella più interessante, che dà soccorso 11 settembre, si prevede un piano di rigenerazione urbana che dovrebbe presentare il Comune di Pesaro, sul quale potrebbero esserci finanziamenti per una sistemazione e poi un riutilizzo ad appartamenti, potrebbero essere ERAP, ma anche appartamenti venduti a privati. In questo caso, con questo parziale risanamento, l'ASUR potrebbe procedere a un riutilizzo dell'area immediatamente retrostante di altrettante 6.000 metri, sono entrambi di 6.000 metri queste due aree, per riportare al centro della città di Pesaro un poliambulatorio, degli uffici, insomma, riutilizzarli a favore dei cittadini in qualità di ASUR. In questo caso l'ASUR potrebbe vendere le case private che sono su Via Mammola Bella, in modo da finanziare in parte anche il suo intervento. In ultima istanza rimarrebbe la parte dell'ex biblioteca, che sono altrettanti 1.000 metri, che in questo caso verrebbe ceduta gratuitamente al Comune di Pesaro. Ecco, un riutilizzo complessivo tramite fondi pubblici, in parte fondi anche regionali, diciamo così, come ASUR, e in parte privati. Una ristrutturazione complessiva che se il Comune di Pesaro sarà d'accordo potremo portare avanti fin da subito.